Questa sera è ritornato un amico qui da noi che è Settimio Laporta, il quale ha già preso parte ad altre occasioni negli anni precedenti in cui abbiamo avviato questo connubio tra gastronomia e cultura. Nel caso specifico Settimio ci illustra l'Eros nell'arte e in particolare credo fai riferimento a un'espulsione che va dal Rinascimento. Sì, anche prima, anche dall'Egitto, qualche cosetta. Quindi l'Eros nell'arte che abbraccia un ampio spettro temporale. Vi posso garantire, come io conosco o ho partecipato a diverse presentazioni che ha fatto Settimio, è una persona che riesce ad affascinare e credo che avrete sicuramente del trasporto durante. Durante. E quindi diciamo, io non voglio togliere spazio a Settimio, vi posso garantire che sarà una serata che poi ricorderete per diverso tempo. La serata sarà anche accompagnata come al solito da un menù che in qualche modo la cuoca ha cercato di recuperare un po' di sapori, un po' di spezie che siano in qualche modo in tema con l'argomento. Si dice che siano afrodisiaci, adesso poi vedrete gli effetti dopo Settimio e dopo il cibo. Quindi spero che sia così come ci è stato detto sia dalla cuoca che da come normalmente Settimio sviluppa questi argomenti. Al solito c'è il nostro amico Galeotti, Mauro, il quale riprende la serata, però riprende la serata sostanzialmente solo da questo punto di vista. Per cui se c'è qualcuno in incognito o ha dei problemi di operazione non abbia problemi perché non viene ripreso, eventualmente viene tagliato. Però poi si può rivedere la serata sulla rivista di Mauro Galeotti che la città è un che poi magari vi dà un bigliettino, un indirizzo dove poterlo vedere. Allora, lascia a te sentire. Siamo 10 minuti. Sì, come al solito. Allora noi al solito facciamo, lo dico perché è nuovo, intervalliamo tra un piatto e l'altro con l'intervento del relatore. Quindi al solito quando vedi più o meno che arriva il piatto, sta arrivando adesso per esempio l'antipasto, uno degli antipasti, vi chiedo magari di introdurre un po' cosa e poi magari passare al momento successivo. Vedi un po' come collocarvi. Allora, vi lascio alle riflessioni di Settimio. Allora, l'eros è una parola greca e comprende un po' tutto, abbraccia sia la sessualità, sia la fisicità, sia gli aspetti, chiamiamoli così, più spirituali dell'eros, gli affetti, eccetera. E il simbolo dell'eros è il pittino. Eros era rappresentato con le avruce e quindi qui è rappresentato da un grande pittore che praticamente ce lo presenta attraverso un'immagine filosofica. Perché nella filosofia, Heraclito dice, pantarei, tutto scorre. Cioè non è quello che ci sembra statico, in realtà è un continuo scorrere. In realtà uno potrebbe dire anche il contrario, perché anche se sembra che piova e che i fiumi avanzano, ma l'acqua sulla terra è sempre la stessa. Quindi è un moto apparente, però è la grande filosofia greca che ce lo presenta. Allora lui, Guido Reni, grande pittore dell'inizio del 600, ce lo presenta un puntino per lì, un bacchino, il bacco. Il vino è sempre associato all'eros, è che sta bevendo il vino e vedete gli effetti, pantarei, passa attraverso il corpo e riesce come urina in basso. Quindi è veramente simpatico, poi c'è un volto paffutello, è sempre rappresentato il paffutello. Solo il nostro, solo Caravaggio ce lo presenta con sette malattie, ci hanno scoperto dentro, nel cupito di Caravaggio. Quindi perché è un'altra visione più drammatica della vita. Bene, allora cominciamo proprio con cupito. Cupito viene da cupio, desiderare. Quindi anima compiscibile, che desidera. E guardate quanti puttini sono stati, questi sono alcuni dei tanti nella pittura. E questa è una poesia, una poesia, un pensiero di un poeta teoclito, grande poeta siciliano. Siculo, insomma, della Trinaglia, 310 a.C. Punse una volta un'ape e crudelmente ero scupito. Lo punse, lui sentì dolore e mostrò ad Afrodite, alla madre, dove aveva male, lamentando che un insetto piccolo come l'ape potesse far ferite tanto grandi. Ma tu, disse la madre, sei come l'ape. Tu sei così piccolo ma fai delle ferite tanto grandi. Perché l'amore fa delle ferite enormi. Quindi non ti devi lamentare. Ecco, vediamone due, rappresentati da due grandissimi. Uno è il Parmigianino, grande pittore della seconda metà del Cinquecento. L'altro è Caravaggio. Voi vedete come l'eros, attraverso gli artisti, si esplica in modo diverso dall'uno all'altro. Estremamente sensuale quello di Parmigianino. Guardate lo sguardo, osservate gli occhi. Lui sta preparando con la faretra una freccia, una di quelle frecce che scaglia per fare innamorare. C'ha le ali e guardate, quello che è estremamente sensuale è quello sguardo. Cioè ci aspetta che ti sistemo io. Praticamente significa adesso scatterò la mia freccia, farò scattare e quindi ti sistemo. L'altro invece è un Caravaggio giovane ancora. Non ci sono le luci caravaggische vere e proprie. Questo doveva essere un suo ragazzo che teneva lì, perché lui, quando andiamo a pregare le madonne di Caravaggio, chi ci va, uno non sa nemmeno. Per esempio a Sant'Agostino c'è una madonna splendida, la madonna di Lourdes. La madonna dei pellegrini era una prostituta di 16 anni che lui aveva a casa di Siena. E quindi quando uno prega la madonna, in realtà quella è la prostituta di Caravaggio, per la quale, e proprio a fini di difenderla, ammazzò Tommassoni, quel famoso delitto per cui scappò da tutte le parti. Quindi tutto questo dramma. E vedete come cambia completamente. Questo volto che non è affatto bello, questo volto del puttino di Caravaggio. E in una maniera completamente diversa da come ce lo presenta Parmigianino, vediamo una parte del corpo. Ma vedete la pelle, tutto qui non rende benissimo, è estremamente sensuale. E quello sguardo incredibile. Qui la sensualità è lì, con le gambe completamente aperte, ma non crea eros. Non c'è eros, non c'è attrazione. Quello sguardo da scughizzo napoletano, direi, con quelle ali enormi che sono di rondine, così gli diceva di fare Federico Borromeo. Perché Caravaggio è uno dei più grandi credenti della storia dell'arte. E prende a modello Michelangelo, è l'unico che ha capito, il grande Michelangelo. Quindi sempre ammazzato, giocava, si arrabbiava, eccetera. E però ha una grande fede. La sua arte è l'arte dei poveri. E il Borromini dell'architettura. Voi sapete che Bernini, Roma, crea quelle stupende scenografiche marmore. Invece Borromini no. Borromini usa il mattone, usa l'intonaco. E lavora sempre, si ammazzò poi alla fine, completamente diverso dal cavalier Bernino. Ebbene, lui è per la chiesa dei poveri, la chiesa dei filippini, la chiesa, cioè le chiese degli ordini religiosi pauperistici. E lo stesso è Caravaggio, perché provengono entrambi dalla Lombardia, dove c'è la Federico Borromeo. Siamo nella contro-riforma. Però ecco questa rappresentazione vivida. L'amore vince su tutto. Guardate per terra, la musica, l'arte, viene sottomessa dall'amore. Perché l'amore è un sentimento contrario alla morte. Sapete, mors, mors è latino, è lo stesso etimo. C'è mors e non solamente che in una c'è a, che vuol dire non muore. Mentre nella morte non c'è l'a, si muore. L'amore è il, diciamo, è la vita e la morte è quella. Ma la radice è la stessa. Ecco, vediamo. Qui c'è una panoramica un po' dell'arte antica. E, diciamo, possiamo vedere, una delle più belle immagini è questa. Voi sapete, gli egizi non conoscevano la pittura. I greci hanno preso tanto dagli egizi. Ma i greci hanno creato la pittura. La pittura è a tutto tonto, l'immagine. E quindi i colori sono dappertutto. E ci si gira intorno, allo spazio, eccetera. Questi no, questi fanno dei disegni. Sono due omosessuali. Guardate la delicatezza dell'immagine. Come le due mani, una di lui lì che la tiene sulla spalla, l'altra che tiene all'avambraccio, indicano l'affetto. E quello sguardo intensissimo dei due, l'uno verso l'altro. Ed è veramente stupefacente. Ma vedete che sono piatte le figure? Lo farà Picasso, così piatte tendono a scomparire come se ne vuole a fine. Tutte quelle figure enormi, che sembrano brutte, sono stupende. Quella c'ha 24.000 anni fa, la prima. E che rappresentano? Rappresentano la grande madre. Perché le prime divinità sono divinità femminili. E la terra, la grande madre terra, Gea, come la chiamavano i greci, che genera tutto, la radice è la stessa. E quindi è rappresentata. Perché è rappresentata così? Bombata dappertutto. Semplice, perché sono gli attributi che danno la vita agli esseri umani. I seni, da cui viene il latte, e i fianchi enormi, opimi, come si diceva una volta, perché contiene nel ventre il bambino. E quindi sono gli attributi più importanti. Sono quelle figure che poi si trasformeranno nelle madonne. E quindi nelle madonne di Ciotto, di Cimabue, che vediamo assise sui troni, vengono queste immagini qui. Sono importantissime. E mentre l'arte indiana, vedete, l'eros indiano è più esplicito. C'ha queste figure estremamente delicate. E presentano tutti gli aspetti femminili più evidenti. Il sedere, guardate come è volutuosa questa immagine, come si appogge in sé. E poi l'altra con i sedi enormi, perché rappresentano proprio l'unione fra cielo e terra. Guardate questo bacio bellissimo. Si trova sui templi, eh? Fanno parte, diciamo, dei templi proprio loro. E vedete questo bacio intenso, è proprio il bacio fra cielo e terra, dalla cui accoppiamento verranno gli uomini e tutto ciò che verrà poi creato. E poi andiamo alla grande arte greca, che prende, è quella che ci ha condizionati, è quello che ci fa dire quanto è brutto Picasso, quanto è brutto i tempi moderni, queste cose, cioè perché noi andiamo a cercare il racconto nei quadri? Non lo dobbiamo cercare più. Da manè in monè in poi, il racconto scompare, comincia a scomparire. Quindi noi quando andiamo a cercare il racconto, ma che significa quel colore messi così in un quadro? Sbagliate. Perché noi andiamo a cercare qualcosa che i greci ci hanno detto. Perché i greci fanno il racconto, lo creano loro. Pensate all'idea dell'Orissea. L'abbiamo letta tutti, no? A me la scuola è un racconto continuo. Pensate Polifemo, quando esce dall'antro di, cioè Ulisse dall'antro di Polifemo, racconta tutto minutamente. Perché i racconti, i greci amano raccontare. E quando si racconta, si narra. E si narra da modi diversi, da punti diversi. E cerco di riprodurre la realtà. E la Grecia è la pittura della realtà. Ecco perché ci ha fasce, ci ha condizionato per 2.500 anni. Quindi accettare Manet e Monet. Quando uscirono, si morirono di fame, come Van Gogh. Perché non li capì nessuno. Abbiamo dovuto laicizzarsi noi per poterli capire. E quindi non capiamo Picasso. Ma perché due occhi da qui e da lì? Guarda caso. 4.000 anni fa un bue a Siro aveva 5 zampe. Perché l'artista si era spostato da qui a qui. Quindi Picasso non è inventato nulla. Né Cézanne. Lo rivivono in una chiave nuova. Beh, quella è una venere. Prassitele. Prassitele lo amavano i romani. È una copia romana. Perché delle opere d'arte greca, purtroppo, sono rimaste 4-5. E non di più. E poi sono affascinanti. Perché i romani, a fura di far copie, ce l'hanno lasciate. E' bella, vedete, opulenta un po', no? Questo corpo. Perché non potevano rappresentare le donne nude, i greci. I maschi sì. Sono bellissimi i corpi maschili. Le donne no. Allora dovevano prendere una scusa. Sta venendo dal bagno. Eccolo lì. Infatti quella venere ha un'anfora per gli unguenti. È salita su dal bagno. E ha un asciugamano per potersi poi pulire, insomma. Nettare dall'acqua. E però il contrasto è ancora più violento. Perché io ho un corpo su cui la luce scorre e va giù. Guardate quanto è bello. E sembra c'era. Questa è una copia. E guardate invece il panno che è lì sopra con queste pieghe profonde. Allora il contrasto, lo simolo, come si può dire, crea il fascino maggiore. E tutto è... E questi romani ci andavano matti per queste immagini così più belle, più femminili. Ecco, questi adone. Tu hai chiesto cosa voleva il mio cuore folle. Questa è la più grande poetessa di tutti i tempi. Saffo di 2500 anni fa. Ci sono rimasti dei brandelli. Ed è meravigliosa. Chi ancora devo convincere ad accettare il tuo amore? Saffo, chi ti fa torto? Se ora funce, presto inseguirà. E se non ti ama, presto ti amerà. Vieni ancora, liberevi dal penoso tormento. E quello che il mio cuore desidera, compilo. Sì, mia alleata. Sta pregando Venere. Per chiedere di amore della persona di cui sei in amore. L'amore saffico, in generale era. Quindi Saffo crea diversi stupendi. Questi due, invece, sono etruschi. E c'è arte greca. Questi volti sono greci, sono. Perché li prendono molto all'arte greca. Guardate come si fanno rappresentare da morti. Si fanno rappresentare sotto un lezzuolo in un momento di forte attrazione fisica tra l'uno e l'altro. E in Creogia non lo farebbe nessuno. Ecco gli etruschi. Sull'esempio greco. La statuaglia greca è un rapporto matematico. Il naso è un rapporto al viso. Il viso è un rapporto matematico col corpo. Dove si alza un braccio, l'altro si deve esce. Per cui noi abbiamo un movimento statico. E ci affascina. Perché prende la parte... È tutto perfezione matematica. Come vedere gli astri. Quindi Pitagoro ha la filosofia pitagorica. Vediamo ancora l'altra. Ecco, lesbia, questo è il grande poeta Catullo. Romano, vissuto ai tempi di Cesare. Lesbia davanti al marito non fa che parlare male di me. E questo per quell'idiota è la massima gioia. Non capisci, cretino, che se mi avesse scordato e tacisse sarebbe guarita. Ma se parla e starnazza è segno che non solo ricorda, ma ciò che è peggio è arrabbiata. Insomma, parla perché brucia. Guardate che modernità. Scritto 2500-400 anni fa. 2300 anzi. Odio ed amo. E uno che odia e amore sono lì. Uno a fianco all'altro, su due facce della stessa medaglia. Mi chiederai come faccio? Non so. Me lo sento succedere e mi tormento. Questo è Catullo, il grande Catullo. Lesbia parla male di me e non smette mai di insultarmi. Maledetto. Ma se lesbia non amano. Come lo so? Perché anche io faccio così. Non smetto mai di insultarla. E il maledetto me se non l'amo. È stupendo. Vedete com'è? Affonda nel cuore dell'uomo. E poi queste due lucerne. Le lucerne, queste si chiamavano lucubrum, da cui è lucubrare. E lucubrare è quando il pensiero è non è chiaro, preciso. Lucubrum perché erano le lucerne da notte. Su queste lucerne in genere c'erano delle immagini di accoppiamento. Questa lucerne c'è scritto sarò la tacita compagna delle tue notti. Non dirò mai quello che vedo. Questo vuol dire dal... E quindi è affascinante trovare, ecco, questo era lo stoppino si metteva e l'olio dentro, da qui dentro. Possiamo un'altra roba? Tu si... Facciamo un'altra roba. Un'altra solo? Sì. Ecco. E qui siamo nel Medioevo. Il Medioevo soffoca l'aspetto erotico. In realtà c'erano... Ce n'erano di tutti i colori. C'era la prostituzione che invadeva tutto ed era accettata. Persino case di prostituzione e bagni che erano rette da vescovi. Perché in quel modo... Perché si vedeva la prostituta come un bene sociale. Come una previdenza sociale. Perché la prostituta poteva calmare i giovani. C'era un problema nel Medioevo. I più danarusi in una città sposavano le più belle, le più piccole. Quindi un uomo di 40-50 anni sposava tranquillamente una ragazza di 16 anni. Quindi questi ragazzi erano piuttosto orfani di ragazze. Quindi le prostitute avevano questo valore sociale. Allora, vedete che cosa dice? Questo è il V secolo. La sofferenza di alcuni sta negli organi sessuali. Alle femmine vengono tormentati seni nell'inferno. Certe vergini sono arrostite sulle graticolo. Colpite negli organi sessuali. Guardate lì. E sono gli adulteri e gli omosessuali. Le donne che sono straziate alle mammelle sono quelle che offrono i loro porti al solmazzo dei maschi. Ecco, allora, quando si soffoga ciò che Freud ne ha fatto l'elemento fondativo dell'uomo, la sessualità, l'incoscio, pensati i greci avevano messo al centro l'uomo razionale. La ragione, bellissima, luminosa, la riprende Firenze con il rinascimento. Loro, Freud dice, ma che è stato io? L'uomo, tutte quelle pulsioni terribili che voi, greci, avete condannato, l'anima conquistibile, la pancia, insomma, le visce, quelle sono la forza dell'uomo. Quello è l'uomo. E quindi è terribile. Quindi le analisi, eccetera. E vedete, cacciato dalla porta, il sesso rientra dalla finestra. Guardate queste immagini che si trovano a Firenze, guardate dove vanno i diavoli a mettere il ferro rovente. E nello stesso tempo il diavolo diventa bruttissimo, diventa tanto brutto che diventa la caricatura. E non mette spavento a nessuno, forse nel Medioevo. Perché se avete visto i diavoli medievali, è la caricatura. Quando una persona si fa una caricatura di una persona forte, un naso, lo si prolunga, cioè si ride. E infatti loro arrivano per atterrire la gente a praticamente far sorridere sul demonio. E vedete che vengono appesi anche per gli organi genitali, perché devono praticamente essere soffritte. Allora, continueremo più tanto. Grazie. Parlavamo del Medioevo e il Medioevo è quello che è, non è che è stato un secolo, cioè di secoli. Medioevo vuol dire l'evo che sta in mezzo. È come se uno ci avesse tre figli, uno lo chiama Marco, l'altro lo chiama Giovanni, quello che sta in mezzo lo chiama figlio che sta in mezzo. Senza nome, Medioevo. Eppure è pieno di fermenti di ogni tia. Pensate Dante, Petrarca, Boccaccio, il Gotico, il Romanico. E qualcosa che i borghi medievali sono splendidi. Io penso che le più belle città sono quelle del Medioevo. Basta andare in un borgo perché le città del Rinascimento sono già a planimetria come quella romana e greca, come la Griglia, no? così che ortogonale. Invece il Medioevo provate ad andare a Gubbio, provate ad andare ad Assisi o i borghi che qui del Peterbese sono uno più bello dell'altro, dei capolavori. Perché basta girare e continuamente cambia l'urbanistica. È affascinante, sono i più belli, senza dubbio. Pensate a Siena. Siena tutte le strade, come dei fiumi ruscelli, portano in quell'invaso meraviglioso della piazza. Quindi c'è un coagulo lì all'interno, sono due piazze, una del comune, il potere laico, e l'altra il potere religioso. Affascinante, il Medioevo è meraviglioso per questo, però eccole qua. Innocenzo III, Papa Innocenzo III, 1215 siamo, 14-15, è quello che mette la rondella agli ebrei, la rondella gialla, se ne ricorderà qualche altro alcuni anni fa. E che cosa dice? Duplice è la colpa che il concepimento comporta, concepire un figlio, nel seme e in ciò che dal seme esce. Fa schifo, insomma, questo vuol dire. C'è una colpa. Chi non sa che la copulazio, la copula in grammatica, lo sapete, congiunge, quindi si chiama copulazio, in latino anche il rapporto sessuale, anche se coniugale, non può mai verificarsi senza il prurito della carne, senza l'ardore della libine e senza il fetore della lussunca. Per questo i semi concepiti insozzano e si corrompono. Quindi proprio perché lo dovete fare, figlio. Allora, se proprio lo volete fare, facciamo questa stupenda tavola del Medioevo. Artisticamente non vale, ma è meravigliosa. Si raccomanda ai coniugi la chemise cajul, c'è un camicione che copre tutto il corpo, cajul come una gabbia, pesante camicia da notte con una sola strategica apertura, si sa dove, insomma, concepita perché il pio marito possa unirsi alla moglie a fidi procreativi e con rischi minimi di lussuria. Per cui uno va lì e basta, mette un franco in bollo praticamente. Ecco, e questa è bellissima questa tavola perché ci rappresenta i due codici, vedete che stanno lì distaccati, invece quegli altri sono vicini. Questi distaccati. Il buon Dio lì, la Trinità, ecco l'angelo che manda il bambino che sta arrivando e quindi sta arrivando senza che loro quasi la popola non ci sia. Ecco, e quindi è rappresentante di Dio. È meraviglioso questo perché indica tutta una mentalità abbastanza bigotta del Medioeuro che poi si è preservata per tanto. Eppure, è una cosa oggi in un coro religioso, in una chiesa, queste cose non ci sarebbero. Non siamo mai posti in problema quando entriamo alla Sistina, quei nudi di Michelangelo. Siamo nel 1500. Oggi non li farebbe fare nessuno in chiesa, quei nudi. Quei nudi poi sono stati imbracati da Daniele da Volterra perché il Papa disse di mettere, lo chiamarono serbrachettone, perché gli erano tolti alcuni, perché Michelangelo, pensate alla libertà mentale che c'era. Quindi nel Medioevo, qui siamo nel Medioevo, questi sono dei cori, degli stalli dove i canonici cantavano le loro preghiere. Ebbene, vedevano queste immagini, questa è la sirena, guardate quanto è bella. C'è molta sensualità, i seni, il corpo da fisce, flessuosissimo, i capelli, tutti i boccoli che vanno giù. e il volto è molto bello. Vedete che siamo in uno stallo di coro di monaci. Quella è anche Notre Dame addirittura, Damien, guardate la donna che porge il seno. Quindi i monaci mentre cantavano avevano queste scene davanti. E qui invece, chiesa di San Maurizio, lo stallo, i mariti chiedevano a San Babier, Babier balbettare quasi, in francese Babier chiacchierare, il catenaccio del silenzio per le moglie, fammela stanzita. Ed è rappresentata così in chiesa. Vedete col catenaccio in bocca. Quindi, questa si trova in Francia, Pont de Seine. È un paesino della Francia. Ora, la donna è rappresentata come carnalità pericolosa. E' Eva quella che ci ha fatto lasciare il paradiso terrestre, no? Come carnalità pericolosa. Quindi tenta ed è la sirena. Le sirene, ho visto cosa fanno, lo richiamano e quindi è pericoloso sentirli. E quindi attenti ai monaci perché la sirena sta dietro di voi, quindi cantate, eccetera, ma senza pensare ad altre cose. Vedete come oggi non le farebbe nessuno. Ma c'è anche di peggio e io non le ho messe tutte perché non c'entravano, ma ci sono cose ancora peggiori in chiesa fatte. Poi, ecco, qui siamo ancora nel medioeco alla fine. Guardate quanto è bello. C'è un capolavoro. Questo è un autentico capolavoro dell'arte. Si trova su un capitello di una chiesa. Eva. Vedete il serpente, il pomo, la mela che porta al peccato. Guardate Eva quanto è bello il volto. È gotica, eh? L'arte italiana discide dall'arte greca e dall'arte gotica messa insieme. C'è una gentilezza unica. E allora guardate che lei diventa un serpente tra quelle piante. Vedete che dia quindi serpeggia proprio come una donna e ha un fascino particolare con i seni. Si volge e sta raccogliendo il pomo che farà perdere il paradiso terrestre e quindi il peccato originale. Ma è un serpente anche lei estremamente sensuale. È un autentico capolavoro per come è costruita. Ci dà l'idea proprio di una femminilità sensuale che porta al peccato l'uomo. È bellissima. Quella è il Pisanello uno dei primi scultori disegnatori dell'arte rinascimentale. Guardate quant'è bella quella donna. È la russuglia. È brutta come corpo nel senso che è ossuta. Non ha niente che attrae ma tutto quello che attrae è quel giocare continuo della linea quella linea morbida. Vedete come guardate quanta grazia e quanto eros c'è in quella posizione. È bellissima. La russuria è brutta infatti c'è i capibili che sono serpenti quindi non può rappresentarla bella però è bella nella sua completizza in tutta l'immagine nella sintassi dell'immagine. Questa è un'arte che è fronte in blu si trova in Francia è arte fiamminga raffinatissima. Vedete il gotico come porta i visi a noi con l'arte greca diventano molto più belli i visi. qui invece si allungano e sono due sorelle sono al bagno eccolo qui il bagno e lei sta toccando il capizzolo di sua sorella perché? Perché sta a indicare il cammino dietro la famiglia perché è incinta quasi sicuramente dovrà avere un bambino e quindi indica la maternità la maternità. Guardate l'eleganza delle figure oggi potrebbero essere delle modelle così allungate bellissime è una grande arte fiamminga poi il cibo e i suoi sogni ecco veniamo a un tempo com'era il cibo nel medioevo perché si vuole divertire si legga un pranzo non so quante calorie ci sono qui dentro e si legga un pranzo di queste portate quinta quinta portata e se ne potevano restare anche di più quindi si mangiava in una maniera incredibile e sono tutte cose soprattutto di salsicce budini pasticci di anguilla lepre pronetto e soprattutto la cacciagione che è in carica poi di colesterolo e di tutto il resto quindi per fortuna i poveri non ne soffrivano molto quasi i ricchi erano tutti gotosi quella terribile malattia della cotta perché mangiavano questo e poi con i sali sale avevano una grande sera quando ero ragazzo io i contadini non c'era il frigorifero si usava il sale ma lì nel medioevo una sete immensa avevano perché usavano il sale per tutto anche per conservare i corpi dei morti quando dovevano portarli da un campo all'altro ci mettevano il sale li conservavano e avete letto un pochino quello che c'è per fare le cariche però erano dei grandi non dimentichiamo però che questa gente si muoveva questa gente si muoveva come i contadini di una volta mangiavano tantissimo quando ce l'avevano quando ce l'avevano però si muovevano andavano a piedi quindi bruciavano le calorie e il fisico lo richiedeva quello è una una rappresentazione di un più per i libri le ricchissime ore del Duca di Berlì una sorta di di libro di preghiere dove venivano rappresentati santi di tutto ed è un cavolo lavoro assoluto del cosico francese guardate l'eleganza siamo in un mondo gli alani i cani proprio dei nottini che stavano lì il piatto lo vediamo rivoltato verso di noi perché dobbiamo vederlo quello che c'è dentro e poi queste figure ben vestite tutte e proviamo a immaginare i franchi francesi hanno capelli lunghi segno di virilità di forze e di libertà non unti con burro acido come ce l'avevano i barbari quelli che combatterono contro i greci i romani si mettevano del burro chi ha visto che è stata ai capitolini ha visto il gallo morente uno splendido capolavoro dell'arte greca ha visto che ha i capelli acciocche perché mettevano degli acidi animali amano molto con la zuppa ecco che mangiavano delle zuppe da loro inventato un brodo di carne con pane e legumi secchi servito all'inizio del pasto si chiamava i romani lo chiamavano il pulmentum da puls che era una sorta di brodaglia i greci che erano molto più raffinati già coltivavano le viti già avevano un cibo meraviglioso chiamavano i romani pulsones cioè polentoni perché mangiavano tutta sta robaccia quindi li disprezzavano sotto questo aspetto e poi carni varie cavoli rape condite con aglio cipolla e tanto pepe garofano cannella narto peperoncino noce boscata questa cucina pesantissima che avevano anche i romani e nel medioevo era pesantissima perché mettevano tutte queste spezie e garum il garum viene da Roma lo facevano anche a Pompei erano l'interiore di un pesce più era pregiato il pesce più costava era un po' come le maionese le salse però era essiccato al sole e messo con sale con l'aceto era qualcosa di pestilenziale ma i romani ci andavano matti ci andavano matti tutto l'impero romano e costava tantissimo si beve tanto naturalmente Alessandro Magno arrivavano a bere anche 12 litri a pasto a persona e quindi morivano infatti l'incendio di Persepolis la sfleddita città avvenne proprio perché erano ubriachi fratici e morivano in coma etilico e morirono 12-15 litri a persona pensate qualcosa di bestiale consumo di un monaco andiamo a vedere un monaco quello che consumava nel medioevo 1,7 grammi di pane prego no a giorno al pasto al pasto allora loro loro l'allungavano con acqua i greci l'allungavano con acqua erano sempre 12 litri insomma 12-15 litri e quindi si morivano ne morirono una sera ne erano 15-20 insomma fra generali e cose pure Alessandro Magno è morto per gli eccessi che ha avuto 33 anni allora un chilogrammo e 700 di pane la monaca di clausura 1,4 litro 1,5 litro di vino birra 1,5 litro 700 grammi di formaggio 259 grammi di purea di lenticchie ceci per le monaca 133 solo 6.000 calorie in un giorno il doppio di quanto più o meno 3.000 sono già per noi per chi lavora soprattutto il resto ritienuto poco nutriente va col pane infatti pane andare col pane vuol dire cum pane quindi con panatico viene da quello insieme al pane nelle feste le razioni aumentavano fino a 9.000 calorie quindi pensate era da esplodere insomma consumo di un contadino vedete che la povertà delle volte faceva bene perché questi non morivano come quegli altri morivano da fame spesso in una fazia francese un pane 3 o 6 uova 100 grammi di formaggio bevante a sufficienza in quaresima noci 100 grammi con cuscio in tutto 3.500 4.000 calorie per un contadino che doveva lavorare come un ansomaro come una bestia faticare diciamo le bruciava subito ecco pensassiamo nel rinascimento nel rinascimento la tavola diventa più imbandita più raffinata e soprattutto diventa spettacolo il papa quando mangiava e lo vediamo in alcune rappresentazioni la gente osservava perché vedere come mangiava era importante Luigi XIV mangiava da solo il fratello lo serviva e tutti dovevano osservarlo con una ritualità paurosa spaventosa roba da follia insomma e quindi la gente si arriva anche sugli alberi per assistere al pranzo dei re dei principi quindi diventa spettacolo anche perché quelli non vedevano mai tutti questi prodotti li vedevano sulla tovaglia e quindi davano bene pensate i noni portati a palazzo medici non dovevano mai dimenticare che erano paesi del terzo mondo romani greci tutti fino alla rivoluzione industriale il matrimonio di Lorenzo in manibilo gli portarono 150 vitelli 200 paia di capponi anatre gandine peci in cera e botti di vino e da 10 a 20 libri di carne di vitello Clalice la moglie che era romana avebbe 50 anelli broccati e bassori il matrimonio era privato perché non era religioso in coso a Firenze un po' come il rito Ambrosiano a Milano avevano delle libertà che si potevano per lì questa è la primavera la splendida ah sì no la primavera la nascita di Venere la splendida opera di Botticelli ebbene è tormentata come opera sembra una cartolina illustrata è tormentata è una modella di oggi se lo vediamo ma perché così e così fine perché c'è alla base la filosofia platonica senza la filosofia di Platone non si capisce né Raffaello né Botticelli né Michelangelo perché perché il corpo doveva essere la materia doveva scomparire diceva Botticelli diceva Platone e deve rimanere l'idea pura il bello la bellezza questa idea del bello eccolo lì questa figura se voi vedete le onde del mare sembrano moderne perché non c'è un'onda sono accenti circonflessi tutto viene stilizzato trascende trascende la realtà quella conchiglia non si regge su niente i venti e questa figura che è la primavera non si reggono su niente volano lievitano è il grande Botticelli di cui non si riesce a capire pienamente l'alte è uno dei grandi quando li vede uno la prima diceva che bella sembra una cosa di una semplicità non è vero c'è un tormento incredibile nell'opera sua e poi e poi eccola qui questa è Antonello da Messina splendido pittore meraviglioso Cenai sentite quanto è bella questa di Messer Matteo Franco è un poeta che viveva presso la corte dei medici e tutta surreale quasi Cenai un'insalata a casa mia di mie man colta filo a filo con il boccon ancor quant'io compilo mentre sto scrivendo i versi in bocca mi facea gran melodia st'insalata e il prezzemolo cantarvi si sentia salsiccia poi che parea di versino persino era un tipo di maiale della zona sottile ben trita netta e cotto appunto che sei quattrini costò dal macellare o dal maffaino tagliata per tagliere sul pane unto gusto il finocchio con sale e il fumuino che in bocca mi feciano un contrapunto ora nota bene e prendi quello che ti dico il sunto cenai con tal piacere che mal senza muffarsi cioè senza quel piacere non si può cenare col conio del piacere che è il contentarsi io mi sono contentato di poco e lo godo se invece uno non è mai contento non arriva mai a godere le due opere una è Raffaello la furnarina era una prostituta intorno al Vaticano c'erano almeno 15.000 prostitute tutti maschi erano siamo nel 500-50.000 abitanti guardate che bella che sensualità è una donna che lui amava e prima di morire le diede una ricompensa in denaro e la mandò via perché doveva andare in paradiso naturalmente via e guardate come non è fatta per gli altri è piccola era quella che loro si portavano dietro come una fotografia insomma il volto vedete è acerbo quasi con quegli occhioni enormi guardate quanta dolcezza ha in quegli occhi e poi la disposizione delle mani una copra in basso l'altra il velo in alto i seni non hanno niente di erotico di sensuale è una figura dolcissima che guarda con affetto il suo uomo che poi è Raffaello l'altra invece è San Sebastiano San Sebastiano murì si dice giovanissimo e non soffriva allora tutte le monache le cose vorevano San Sebastiano perché uno aveva un bel ragazzo di origine greca efebbica eccolo lì guardate che corpo meraviglioso che gli fanno tutti così sono tutti sereni guardate dal basso ripreso così diventa ancora più grande una semicolonna a terra vuol dire è il mondo classico che finisce col cristianesimo è a Venezia quelle arcate meravigliose sono venete e vedete come entra con quel palo dietro entra perfettamente all'interno al centro e divide il quadro è 1400 ed è bellissima come figura la statualità della figura ecco e poi c'è un sogno il sogno dei contadini quelli che hanno il sogno di Bengodi del paese di Bengodi dove si gode lì si legano ecco già nel mondo greco lì si legano le vigne con le salsicce le oche grasse vanno arrostendosi da se stesse mentre camminano si arrostano si arrostiscono e quindi si possono mangiare e tavole imbattite senza pagare ed erano un fiume di vino rosso e bianco una montagna sopra la quale stavano genti che di un'altra cosa facevano che far maccheroni e cuoce lì il brodo di capponi è il sogno vi sono quattro pasque e quaresima mai naturalmente e quaresima ogni venti anni e i denari che non servono tanto è tutto gratis sono sotto i sassi le donne danno solo altrui piacere stanno lì verso l'azzo degli uomini insomma e c'è la fontana della gioventù la famosa fontana che faceva ringiovanire ora andiamo poverelli non stiamo più a stentare non stiamo qui a stentare la fame andiamo al paese di Bengali e quello è il grande Peter Bruegel il sogno di Bengali eccolo qui sono dei contadini che si sono messi sotto un tavolo dormono dopo la fatica enorme che hanno fatto e che cosa vedono piatti pieni vedete di sul camino anche salsicce vedono di tutto è il sogno dei poveri dei poveracci possiamo leggiamo qua quell'altra e ecco e questa è la fontana della vita perché si pensava c'è sempre pensato a questo no e che andando in questa fontana naturalmente sono tutti nobili quelli che vanno andando in questa fontana la vita ritorna e guardate gli effetti immediatamente ritornati giovani si torna giovani guardate con quanta rapacità prendono queste donne e così qui al bagno e i bagni erano sempre intesi come luogo di prostituzione eccoli qua li vedete si vede persino un viscovo che va dentro e poi e poi ecco tutte le altre figure ecco al letto eccetera i piaceri dei bagni l'acqua che fa rinascere e poi la festa contadina di Peter Bruegel sono tutti contadini con bei moltellacci a fianco vedete di nuovo si è trovato un bel paese da naviganti del maroceano che mai più non fu visto e mai più inteso ecco un paese di Bengoli anche questo una montagna di cacio grattato solo una si vede in mezzo alla pianura che in cima una caldana gli ha portato tutto latte che fa questi formaggi e di latte un fiume nasce di una grotta qual va correndo per mezzo il paese i greppi suoi sono fatti di ricotta da una parte e dall'altra il re dell'uovo ha il nome Bucalosso perché il più poltrono l'ha fatto re che come un gran pagnaio è grande e grosso e adesso con la manna riesce e quando sputa sputa marzabani e il logo degli occhi in capo a pesci quindi vedete che visione e là non bisogna gonne né giopponi né canice né bracche a nessun tempo non vivano tutti ragazze e garzoni non c'è freddo non è caldo da alcun tempo ognun si vede tocca quanto vuole quindi è primavera insomma continua che continua dopo ecco surrealismo formaggio Dalì sul tipo di Dalì surreale vedete un panorama un paesaggio fatto di formaggi e del cibo e poi c'è Arcimboldo che non è un artista di quelli però ha costruito col cibo le figure un'originalità lì non c'incresce avere assai figlioli e quando piove piove ravioli ognuno ha ciò che vuole per ogni via e chi la lavorare mai ragionassero i piccarian che c'è null camperia ce lo farebbero fuori non c'è là contadini né villani ognuno è ricco ognuno ha ciò che vuole che della roba ne so carchi piani cioè c'è tanta roba che il povero non esiste non sono partiti cioè divisi campi né contrate che della roba per tutto ne avanza così il paese è tutto in libertà è un sogno bellissimo chi lì vuole andare voglio dirgli la via vada a imbarcarsi al porto mamalucco che non si sa dove sia no? poi navigando attraverso il mar di bugia e chi l'arriva è re sopra ogni imbecille sopra ogni cuco perché ci è creduto il Dio ci ha fatti ricchi e non ci ha servi perché voi chi ti ingrassi e chi ti servi e chi nasce in città villa o castello e sia di basso o sia d'alto lignaggio differenzia non sia tra questo e quello e nessun abbi un minimo vantaggio è una rivoluzione sia questa del 1500 quindi è una rivoluzione contro la ricchezza vediamo la risposta a questo ecco questa è Bruegel la sposa vedete buttata di dietro il mondo contadino il bambino che si ricca le vite eccetera è un giordano rapisa predicatore che spiega perché esistono i poveri e i ricchi perché fa e Dio tante diversità di nel mondo i ricchi i poveri i forti e i debole però che perché ha cura di tutti vuole bene a tutti perché se tutti fossero ricchi farebbe il pane chi la vorrebbe la terra ha ordinato il Dio che siano dei ricchi e dei poveri affinché i ricchi siano serviti dai poveri e i poveri sovvenuti dai ricchi a che i poveri sono ordinati perché a quale ordine subiscono affinché i ricchi guadagnino per la loro vita è eterna perché senza i poveri andrebbero tutti all'inferno e quindi invece i poveri loro fanno del bene ai poveri e quindi si salvano se i poveri non fossero non sarebbe chi facesse l'imosina e a chi la fanno i poveri stanno perché i ricchi gli devono fare l'imosina o misericordia vedi che sono necessari i poveri e afflitti questo era un frate predicatore era tutto calcolato Giorgione venere dormiente provengono tutti da una statua greca che si chiama l'Arianna addormentata tutte da lì osservate quella di Tiziano c'è un ero Tiziano è meraviglioso per la sua sensualità non è che deve per forza fare posizioni sgangherate basta quella mano sul tube ma soprattutto basta la luce guardate che meraviglia quella luce sulla pelle è una pelle che è delicatissima la si vede come scivola chiara e la mano abbandonata alla destra quella mano abbandonata è simbolo proprio di Eros anche quello questi erano quadri che venivano fatti per i matrimoni e quindi venivano dati ordinati e dati per i matrimoni guardate la venere di Giorgione anche lei lui prende Tiziano prende da Giorgione è immessa in un paesaggio il paesaggio è sensuale come la venere se la vedete una roccia le fa da cuscino dall'altra parte c'è un'altra roccia e la figura che si distende dolce come si distende la collina e il paesaggio i colori i colori sono quelli veneti loro costruiscono con i colori più che con il disegno e poi lo splendido Giorgia riprende la stessa immagine ma è una donna del popolo non ha nessuna non volevano bruciare l'inquisizione andò in galera perché ha fatto questa donna nuda ma guardate questa donna come guarda guarda con un senso di simpatia ma anche di staccata nessuno di fronte a un corpo del genere dice che c'è sensualità non c'è assolutamente è un corpo acerbo completamente molto insignificante non è così sensuale classica come quelle altre due eccomandì l'Olimpia come dicevo prima questo è il quadro che ha rivoluzionato l'arte perché l'arte nostra occidentale nasce in Grecia e ci arriva fino a questo quadro perché ormai l'arte era diventata accadella se si vedono i quadri dell'ottocento noiosi le menere ribelle si pregostiano a fare operazioni gindiche ci voleva una ventata nuova arriva Menef a questo quadro riprende tutti questi dall'arte greca in poi la vedete però era l'Olimpia il nome di prostituta era l'Olimpia quindi usa la stessa tela enorme imperiale si chiamava e la tela imperiale andava usata per i grandi avvenimenti questo mette una prostituta sull'avvenimento quindi una tela imperiale fu uno scandalo primo secondo guardate il letto assolutamente disfatto guardate quanto è costruito invece anche qui con Giorgione anche ci sono delle pieghe ma è seta è sensuale e così anche per l'altro letto qui invece è proprio qualcosa anche di sporco quasi che c'è nello stesso tempo la figura vedete anche c'è una figura nera di colore una donna quello che usa la Giorgione lo riprende loro i veneti però guardate questa donna la differenza con le altre è scarnificata per la prima volta una donna nel mondo classico rinascimento Grecia la figura deve essere rotondeggiante e quindi bisogna girare intorno avere il suo spazio qui no qui è una figura scarnificata è una sensualità che non c'è più la denudata anche della carne completamente c'è un nastrino che è simbolo della prostituzione tra parentesi questa era la modella più amata da tutti i pittori e morì alcolista a New York poverissima e guardate quindi è scarnificata anche quei seni non hanno nulla di sensuale e come guarda sfacciatamente quasi a invitare quelli il visitatore o il colui che va è la rivoluzione quel fiore è messo lì sgargiante è l'unica nota di colore vera e poi questo nero ecco l'ossimono come si dice cioè il contrasto però un bisellato ma questa donna è stata scarnificata è la distruzione dell'arte greca l'arte greca che queste immagini a tutto tondo è scarnificata da qui arriva Picasso da qui arriva arriva l'immagine impressionistica arriva tutto ecco perché non lo capì nessuno accetto a Pollinaire questo quadro è affascinante perché il padre dell'impressionismo è dell'arte contemporanea Manet sembra un quadro infatti ci rilevano qua sopra quello che non hanno scritto su questo e ecco guardate che come cambia l'eros in tutti Tiziano Tanae guardate che meraviglia quanta sensualità c'è in questo quadro un grande artista li tocca appena gli argomenti dell'eros guardate che abbandono Tanae viene fecondata da Giove sotto forma di una pioggia ecco la si vede la nuvola con la pioggia guardate le gambe sono appena appena aperte per ricevere il seme quel braccio abbandonato e guardate l'abbandono del corpo e il gioco della luce sempre su questa carnalità esuberante bella la pelle è bellissima vedete come assorbe la luce in una maniera incredibile Tiziano è un genio e qui c'è l'amorino che fa tifo perché lui è cupido e quindi fa l'eros guardate un altro grande sensuale Correggio già anticipo un po' il brocco vedete anche qui la pioggia d'oro che arriva l'amorino che aiuta la pioggia d'oro a fecondare quindi la Tanae e vedete come osserva quanta sensualità in queste braccia abbandonate basta poco un gesto per renderla l'abbandono della Madonna di la pietà di Michelangelo quella giovanile e poi le altre sono e non c'è dolore lì in quel volto è senza tempo 16 anni c'è l'ora perché è indicare che la maternità non ha tempo e poi il dolore per la morte è rappresentato solo dal piegamento di una testa e dall'altra mano che fa così basta è il mondo classico lo tocca appena il dolore non è che se devono strappare i capelli ecco questo significa e quindi guardate questi come preparano le frecce avvenenate questo motivo ironico sotto le frecce d'amore mentre Giove possiede Tanae guardate Rembrandt completamente diverso Rembrandt è terribile con se stesso si è fatto un mare da quando era giovane fino alla fine finché il viso con le crepe delle rughe terribili fino a quando morì la bellezza per lui è la parte estetica non è la bellezza del corpo guardate Tanae che cosa diventa qui e guardate che diventa con Rembrandt un pittore quindi che cerca non più la bellezza platonica bella rinascimentale greca ma il corpo si sforma completamente è una femminilità stupenda anche quella e quindi è un eros completamente diverso e poi abbiamo il sommo capolavoro ho pensato che i Fugger per avere questo quadro volevano pagare ai borghisi tutte le altre opere d'arte che c'erano all'interno della galleria borghise ti paghiamo tutto datecelo per fortuna non gliel'hanno dato e qui c'è tutta la filosofia platonica per Platone l'amore ha diverse l'eros ha diverse l'eros è la cosa più bella dice Platone però dice l'amore platonico qualche cosa c'è di vero cioè l'amore può essere bestiale quello di pancia insomma può essere invece coniugale e può essere invece l'amore più bello quello quando ti liberi dai sensi e qui il cristianissimo ci ha fatto incetta sopra e ti liberi dalla sessualità e allora tu puoi non sei più schiavo dei sensi non so per capirci non si è più schiavi dei sensi si è liberi perché noi siamo schiavi del piacere sia esso fatto a tavola sia esso a letto dovunque quindi invece per Platone l'amore più bello è raggiungere questo stato meraviglioso in cui tu puoi essere un grande studiare interessarti alle tue cose qui sono rappresentati questi tre amori da tiziano guardate che paesaggio veneto meraviglioso c'è anche un coniglio lì in fondo perché questo era anche il suo quadro per il matrimonio allora abbiamo le due figure se voi vedete le due donne hanno lo stesso viso perché l'amore ha lo stesso viso una è più alta ed è nuda e c'è una fiaccola è l'amore platonico l'amore cioè libero dalla carnalità e quindi è un amore puro bellissimo dell'idea più bella l'altro invece è vestita è la donna sposata quindi coniugata e quindi è un amore inferiore più bassa però è importante anche esso il puttino le mette insieme col ciocco d'acqua è un sarcofago sotto poi ci sono delle immagini con gli animali e l'amore bestiale quello esclusivamente sensuale è affascinante i colori i tiziani rossi sono meravigliosi vedete come trionfano ci fermiamo troppo guardate quanto è bello questo il divan Elk grande pittore olandese e i collegi annolfini che erano dei mercanti e stavano lì e gli fanno questa questa immagine stupenda lei è incinta e c'ha la mano sulla pancia a indicare che è una maternità e guardate le mani come si tengono delicatamente vedete il gotico come allunga le figure siamo nel nord e tutto l'interno gli interni meravigliosi pieni di luce da una finestra sono tipici dei fiammini e la dolcezza di questa coppia che sta ad esprimere proprio un amore coniugale delicato e raffinato guardate quanta delicatezza in tutti e due i personaggi a volo ducello li facciamo perché se no ci siamo qui oh e poi c'è l'amore sensuale qui è Berlini il quale quando dove prende Berlini attinge era un sensuale Berlini attinge a piene mani da Santa Teresa che Davila che se la si legge ma che sta che sta facendo sta vedendo Cristo vieni baciami o la Beata Ludovica Albertoni penetrami in me e non mi abbandonare più e che mi dai non è Borromini e allora quando estrasse la lancia sentii come se con essa me lo strappasse e mi lasciò tutto infiammato da un grande amore di Dio e così stradipante era la dolcezza in me come con quella pena intensa che non si vorrebbe mai perdere tanto che De Bross un simpaticone presidente del Parlamento 1700 che in Italia lo vede e dice se questo è amore divino io lo conosco bene perché è un amore sensuale è un orgasmo praticamente guardate le labbra come si suona per serata l'arte greca dietro le labbra per ci volevano erano pensate 200 anni per aprirle queste labbra 150 anni in Grecia in Egitto non si fossero mai vedete l'angelo quanto sorriso la luce che è teatro la luce che viene giù guardate queste pieghe queste pieghe che stanno a indicare il tormento della Santa che è presa praticamente nel vedete il contrasto quello che vi ho fatto vedere di Venere al bagno vedete le pieghe profondissime questo è il barocco crea pittura questa è pittura più che scultura e poi il volto vedete come risalta il volto dedicato con quelle labbra aperte e gli occhi socchiusi in un godimento estremo e quindi De Brosse ce lo conosco pure io quindi non c'è motivo di ecco e poi Fragonard è un pittore del 600 siamo con Luigi XIV e allora presenta queste figurine che sono come tante 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 statuine del rococò e guardate come tutto congiura siamo a corte quindi i poveri non esistono esiste l'amore e l'amore sensuale guardate i colori come sono caldi quasi da letto proprio tutto caldo con le luci appena appena soccuse guardate che colori è tutto indistinto lei che fa l'altelena vedete e poi c'è l'amorino sulla sinistra zitti perché qualcosa succederà prima o poi e quindi ecco Fragonard arrivati a forme estreme di rappresentazione del corpo doveva essersi un piscolo qui sotto ma l'artista lo sostituì per fortuna che doveva spingere l'altelena guardate la diagonale c'è questo signore qua guardate dove guarda mentre Fragonard è proprio è il mondo di Luigi XIV battù ecco guardate l'odalisca sempre di Fragonard ecco così questa è la più castigata c'è di peggio ma di grosso proprio ma vedete i colori non avrete mai un'immagine come quell'altra che abbiamo visto di maniera vimpia vedete i colori come accompagnano il calore qui ci mette il rosa e qui ci mette l'altro il giallo sono tutti i colori caldi ad indicare la passione vedete come ormai è esplicita l'immagine le facce sono quelle delle porcellane avete visto quelle porcellane rococò guardate quell'altra l'ombrellino perché l'ombrellino non bisognava prendere la pronunzatura poi gli alberi fanno un cuore vedete il cuore venere che tace sta lì perché tutto sta avvenendo ecco i due che si stanno accompiando quindi tutto avviene con questi colori caldissimi mentre questi vattu grande pitture il quale fa vedere come questi personaggi che vivevano a corte Luigi XIV si sono annoiati perché sono diventati delle pedine nelle mani del re allora cercano di emigrare come i pellegrini che vanno a Santiago di Compostela hanno la mantellina e qui li aspetta una nave che li porterà nell'isola di Venere ecco qui siamo nella cappella Sistina quel gesto che vediamo fare è di Michelangelo ed è questo qui eccolo qua questo che indica l'organo genitale femminile che si chiama così come si chiama oggi si chiamava pure nel Cinquecento sta lì nella cappella Sistina bisogna andarselo a cercarle ma stanno lì c'è tutto nella cappella Sistina e quindi ecco le due figure e questa è sempre Bouchet un altro come Fragonard guardate la monaca che cosa fa si guarda con i sedi fuori e poi essendo una monaca dovrebbe stare castigata diventa più erotica il fatto e quindi la rappresenta ancora in modo più eh questo è Rubens meraviglioso queste donne opulente di Rubens guardate è brocco Rubens i capelli sono biondissimi guardate quella cascata di capelli si possono toccare seta era e Rubens dipinceva velocissimamente dicevo questi colori li faceva scolare lungo la tela in maniera un genio guardate il corpo come è sensuale possente si guarda nello specchio e noi la vediamo anche dalla parte dello specchio e la figura vedete con la gamba che va in giù opulenta una donna opulenta veneziana un Rubens si frequentò moltissimo l'Italia e guardate quel bracciale quanto è sensuale spezza il braccio e l'avambraccio e lo rende ancora più sensuale ma i capelli sono meravigliosi e guardate Rembrandt che cosa fa donna al bagno pensate che abisso che c'è fra l'uno e l'altro la donna nella sua nudità che non ha niente di bellezza quasi con questo camicione addosso le toglie tutto l'aspetto erotico che troviamo in Rubens e l'altro ecco e qui abbiamo siamo nell'ottocento il neoclassicismo romanticismo Anchor che poi è inglese Anchor dovrebbe dire però francesizzato stare a Parigi guardate che cosa fa Anchor è affascinato da Raffaello da Raffaello allora la luce è lunghissimo questo corpo molto lungo così come è lungo l'altro non gli interessa non interessa perché a lui interessa in arte si fanno queste cose il corpo non è una fotografia è creatività allungato il corpo Van Gogh fa i capelli azzurri così li vede quindi l'allungato perché la luce possa andare sopra e guardate che cos'è che meraviglia che la luce sul corpo è tutta raffaellesca la figura dolcissime tutti e due tutte e due e quindi tutte le altre che vanno in secondo piano quello che è in testa rende ancora più elegante la figura è più attraente il volto non c'è bisogno che si veda noi vediamo solamente le spalle la coscia e la gamba e basta ma la luce piove giù fino in basso ed è bellissima è un raffinatissimo pittore ecco e qui andiamo a Courbet quanto faceva delle donne estremamente sensuali e quello se l'ha visto qualcuno l'origine du monde non so se l'avete mai vista si trova a Louvre ed è praticamente l'organo genitale femminile in primo piano chiese a un amico se le dava la sua compagna quella gentilmente l'origine del mondo ha ripreso guardate che bella quella donna sensuale queste invece no sono le prostitute che erano lungo la senna e le rappresentano nel loro nel loro disfacimento del corpo quindi non ha niente di erotico invece Cézanne che aveva dei rapporti problematici con le donne non si sapeva pure guardate come vede questa donna la vede lontanissima tutto il mondo lei è ai piedi è come una regina vescovi tutte le diverse categorie e lui sta lì in mezzo anche lui perché la donna la vede lontanissima aveva dei problemi ha avuto un'educazione terribile dal padre e quindi si poneva in posizione problematica Cézanne è un grande un genio e Degas splendido disegnatore anche lui figlio di Raffaello dell'arte italiana la vede di spalle ecco l'arte dinamica dell'impressionismo vedete che si sta facendo i capelli come se noi da si stessimo è un momento dinamico non statico e questo è il capolavoro assoluto di Renoir e Renoir era affascinato dall'arte italiana da Raffaello tutto questo quadro risente di Raffaello eppure il trionfo dell'impressionismo impressionismo vuol dire avere l'impressione dell'immagine non la definizione ma se voi vedete la sintassi si chiama del quadro l'architettura del quadro è il rinascimento italiano vedete quei lampioni fanno un cubo vedete che è un cubo qui con gli alberi e i lampioni entro cui le figure si muovono quindi noi abbiamo un'architettura rinascimentale perfetta presa dal rinascimento italiano all'interno si muovono queste figure era il muret della galetta erano dei mulini che venivano usati erano in legno orribili qui diventa un trionfo di luce e il sabato il sabato queste sono tutte saltine che lui chiamò e arrivarono a frotte perché vollero partecipare al quadro questo è un suo amico pittore cubano li fece mettere tutti là e ha creato un capolavoro assoluto una topaia era una topaia il mulino abbandonato di legno diventa un'areccia e vedete la luce che praticamente crea delle penombre e crea delle impressioni delle immagini quello è l'impressionismo quindi l'architettura è rinascimentale classica si può essere classici ecco ma il resto è impressionistico ma quello che è affascinante sono le moenze guardate le moenze questo nessuno ballerebbe con un'eleganza simile è figlia delle moenze di Raffaello basta andare a vedere la scuola d'Atene come sale le scale quello che è in bianco e poi nessuno le salirebbe così raffinatissima una figura è la creatività ecco guardate che belli questi questi palli che sono contenuti dinamici ma contenuti e poi c'è il gioco degli occhi l'erotismo vedete che già questa sedia messa qui abbandonata c'è il senso qualcuno si è alzato è dinamico è dinamico il quadro e poi abbiamo un gioco di occhi ecco quest'uomo lei che guarda verso di noi perché quasi invita lui a entrare in questo gioco erotico degli sguardi questo che è assente questa donna che guarda verso quest'uomo questo giovane e noi abbiamo e questo che probabilmente guarda lei che guarda lui è un gioco erotico in cui è il gioco dell'amore in un certo senso c'è tutta la raffinatezza della Parigi dell'Ottocento di questa metropoli dell'Ottocento i gesti e vedete anche questa figura nel mondo classico non si sarebbe mai vista nel rinascimento una figura seduta così e invece abbiamo come se noi assistessimo ma tutto è composto mirabilmente ci fermiamo qua sul grazie grazie grandi poeti d'amore di tutti i tempi Catullo Matino il bacio è bellissimo questo di Ronè è famosissimo c'è una rotazione dei corpi intorno a questo gesto affettuoso e le figure vedete sono completamente prese dal bacio stesso quindi è famosissimo vediamone altri di baci ecco questo è famosissimo Hayez il più grande pittore italiano romantico e allegoria di Francia e Italia perché rappresentano la bandiera italiana e francese insieme perché siamo nel periodo risorgimentale e allora Hayez è un pittore veneto di Venezia rappresenta l'Italia e Francia che si imbaciano e cioè si metteranno insieme quindi allegorico vedete come l'ha creato l'ha creato quel vuoto a sinistra e questo semi vuoto a destra perché se no sarebbe diventato tutto appiattito e scontato invece quei due vuoti creano una specie di angoscia cioè un desiderio che cosa c'è dall'altra parte e quindi non danno la scena così scontata all'interno di quell'angolo bellissimo questo Brancusi che è un artista rumeno che ha lavorato in Italia col futurismo guardate che bello questo bacio ma come fa a essere bello e stupendo sono due blocchi uno affrontato all'altro il bacio vedete si vedono le labbra gli occhi si incontrano e quelle braccia enormi che riciclono quindi diventa un blocco unico proprio il senso dell'affetto stupendo quest'altro di Giotto guardate che meraviglia sono Anna e il marito Gioacchino guardate il gioco delle mani soprattutto di lei che prende la delicatezza con cui carezza la barba di lui gli occhi che si soppiudono e quel bacio castissimo e Giotto che rivoluziona senza Giotto non ci sarebbe stato né Raffaello né Migraccio e poi e poi il bacio di Munch quello del grido Munch è un nordico terribile nella sua visione terribile della vita e lo vediamo ecco il bacio non gli interessa quello che gli interessa sono due ombre contro il bianco del velo della finestra una finestra che ci fa guardare all'esterno qualcosa un po' meno alla Hitchcock qualcosa di misterioso e queste due ombre che si abbracciano che non è un abbraccio affettuoso sono due ombre scure inquietanti e tipico di Munch che è un impressionista cioè un impressionista un espressionista con i colori e dà le espressioni fortissime alle cose e poi lo splendido bacio di Klimt Klimt e Schild sono due grandi pittori austriaci che quando operano in Austria a Vienna operano nel momento in cui l'impero aspurgico che è figlio di Carlo Magno non ce lo dimenticavo mai e Carlo Magno è figlio di Roma quindi morendo l'impero aspurgico con la prima guerra mondiale sembra incredibile ma è finito l'impero romano d'Occidente quindi perché discendeva dall'impero romano d'Occidente quindi è il momento in cui è in crisi l'impero aspurgico allora tutto ciò che questi due grandi pittori fanno due grandi artisti è proprio il disfacimento di quell'impero e quindi della società e Klimt ha presente l'arte bizantina la ricordate tutta dorata l'arte bizantina ecco lo si vede il bordo di questa donna è tutto fasciato da questi colori bizantini intorno c'è un disfacimento delicatissimo dell'immagine vai ecco e questi sono ecco questo è Munch quello di prima ci avevo messo una poesia bellissima ma è tardi o tolta di Marino Moretti proprio sull'adolescenza è un adolescente è l'età in cui l'età più difficile dell'essere umano quando non si è uomini o donne e quando non si è più ragazzi quindi è un momento di trapasso con le profonde crisi che ci sono guardate che meraviglia è bello quel bordo però è scarnificato anche qui il corpo non ha nulla di attraente è chiusa su un letto terribile vista orizzontale del letto vedete molto scuro con le gambe chiuse le mani davanti quasi la vergogna di rappresentare la sua sessualità il seno acerbo e quegli occhi sbarratissimi che guardano verso un futuro che non si sa quale sarà e il futuro è rappresentato da questa enorme ombra angosciante che c'è dietro e la sua ombra vedete quanto è grande quasi divora l'immagine con questi colori espressionistici terribili possenti è un quadro meraviglioso di Munch e poi ecco sempre nel periodo siamo Magritte e allora con Magritte siamo nel mondo del surreale perché non è detto che uno debba sempre rappresentare la realtà il piatto così com'è io posso rappresentare il sogno i pittori freudiani con Freud si apre il subconscio e abbiamo i pittori del sogno quindi è un sogno che io posso avere e allora rappresenta il sogno miro quello di Barcellona e rappresenta il sogno quando appena uno si sveglia appena uno si sveglia quindi vedete quella quella è una veste è una veste da notte che c'è lì si vedono i segni quindi è qualcosa è una veste vuota però all'interno ci sono i segni quindi è qualcosa di surreale di sognante e quindi l'eros sono quei segni e la veste da notte di notte che ci richiama l'eros la parte erotica i piedi appaiono delle scarpe vuote praticamente e quindi è un mondo che esiste o non esiste non si sa guardate quanto è bello Matisse espressionista Faux vuol dire selvaggio sono le avanguardie guardate i colori come sono possenti violenti figli di Manet e Monet sono tutti figli di Manet e Monet questi e quindi questi colori violenti dinamica l'immagine che si si gira e poi c'è Modigliani anche lui ha operato in Francia questi colli lunghissimi le figure che riprendono riprendono le maschere africane perché l'Europa che è legata al razionalismo greco e rinascimentale se vuole liberarsi deve andare in cerca dei primitivi e i primitivi dove li trovo? li trovo in Giappone l'arte giapponese che è completamente diversa dalla nostra è rimasta così e quindi giapponesismi oppure in Africa le maschere africane guardate che bella che eleganza questo cappello e quindi in una chiave sofisticata un'immagine estremamente sofisticata che si vedete anche se gli occhi sono messi uno su e l'altro giù non ci interessa è un'immagine che si legge in una chiave di sofisticazione dell'immagine diventa sofisticata vai e poi Kokoschka Schill Schill è l'altro grande austriaco lo stesso periodo di Klimt solo che Klimt vive il decadentismo dell'Austria lo vive in una maniera più dolce più docile Schill no Schill lo vive violentamente c'è dei quadri anche di sessualità esplicita maschile e femminile in cui vedete è una passione l'abbraccio ma guardate con quanta violenza c'è quell'abbraccio più che un abbraccio è qualcosa di terribile di possessivo vedete i corpi come si confondono si confondono e diventano irreali quasi sono sudi con quelli dietro quelle lenzuola che diventano anche loro arruffate quindi è un'immagine tipica di Schill e poi c'è Kokoschka un pittore russo meraviglioso questo quadro indica la sposa del vento lui amava questa scrittrice Alma Mahler e ha avuto una passione la passione patos in greco vuol dire passione vuol dire qualcosa che non è amore è passione e quindi come si può rappresentare una passione attraverso i colori il blu notte il blu notte indica l'angoscia quindi la passione che diventa angoscia e nella passione non ci si domina più e allora qui sono rappresentati da una bufera di vento come li rappresenta Dante Paolo e Francesca perché li rappresentano il vento perché non agiscono più è il vento che li porta è il vento della passione e così qui è il vento della passione che porta lui e Alma Mahler e nel blu dell'angoscia e che durerà poco perché le passioni hanno un termine e quindi durano poco è stupendo quest'altro Clint eccola qui anche vedete quanta sensualità nell'immagine dolcissima di questa donna che porge i glutei verso di noi vedete la luce come è diffusa dappertutto e questi capelli al vento e tutta l'immagine scomposta con i colori proprio dei grandi mosaici bizantini e il disfacimento dell'immagine due modi diversi di vedere il disfacimento attraverso l'Eros il disfacimento dell'Austria della grande Austria Felix Austria era chiamata allora e poi andiamo a quelli di oggi eccolo qui Picasso splendido il più grande artista del Novecento un po' il Michelangelo del Novecento e qui lui aveva tutte queste donne e naturalmente era conosciuto il simo noto famoso e i suoi colori e le sue rappresentazioni sono in base al suo stato d'animo qui è con una donna donna con fiore una di quelle che lui con cui lui aveva avuto rapporti eccetera e la vede in un momento di felicità guardate che meraviglia i colori tutto è rappresentato sentete usano gli occhi il naso la bocca scomposti siamo nel cubismo il cubismo è la quarta dimensione io quando vedo una persona di profilo so che dall'altra parte c'è l'altro occhio è chiaro concettualmente lo so allora chi ve ne ha detto io non lo devo mettere pure qua lo metto qui a indicare che c'è l'uno e l'altro è la quarta dimensione gli egizi come facevano le immagini vi ricordate la testa per così di profilo il petto così e i medico che camminavano così gli egizi no ma perché li rappresentano così li rappresentano così come fa il bambino quando disegna le figure più in basso e quelle più vicine della stessa altezza qual è la verità? quella di noi quello è un effetto ottico di vedere l'altro più piccolo dall'altra parte noi siamo uguali si chiama immagine concettuale cioè l'immagine che noi abbiamo qui dentro nella mente ecco guardate che meraviglia c'è i seni poi c'è questa rappresentazione delle mani e c'è tutta la figura tutto costruito col colore con immagini appiccicate come facevo a me che possono essere anche giornali pezzi di stoffa perché il quadro antico è stato superato non esiste più da mané in poi è la distruzione del quadro come lo conosciamo e quindi posso usare invece dei pezzi uso le biciclette uso i pezzi diversi quello è Mademoiselle d'Avignon ecco famosissimo quadro quello di Scende d'Amanet guardate le figure che cosa rappresentano? un bordello infatti il titolo era il bordel d'Avignon cioè quindi il casotto il casino chiamatelo come volete di Avignone le figure e questa è la distruzione dell'arte classica l'arte classica è bella rotonda cioè fa rappresentare le figure tutti intorno qui sono appiattite le figure come se fossero disegnate le vediamo come le maschere africane vedete con gli occhi tutti e due messi messi allo stesso punto e le figure che si presentano avuto dei pentimenti guardate questa con le gambe aperte era rivolta verso di noi chi guardava invece poi l'ha rivolta è un capolavoro assoluto è la rappresentazione praticamente in cui non c'è più lo spazio dietro non c'è più la rotondità delle figure non c'è più la terza dimensione è finita l'arte occidentale come noi la vediamo e lui era un grande classico conoscitore ha fatto delle figure bellissime anche guardate il minotauro il minotauro è la rappresentazione il minotauro era praticamente quello toro il toro lui lo rappresenta sempre con la testa di toro perché il toro è la Spagna eccolo lì rappresentato è un rapporto fra uomini e donne ma guardate quanta violenza c'è dentro la meraviglia di un disegno non è una pittura è un disegno meraviglioso guardate quanta bestialità si vede in questi rapporti carnali che si vedono lì in una rappresentazione di violenza ecco perché il minotauro è un genio e guardate questa che ha anche sul naso il fallo rappresentato è il sogno d'amore ed è un amore puramente fallico puramente sessuale e allora il naso è con protuberanza le mani sono disposte così come le disponeva la gioconda sta così quindi li chiama per tutti i tempi se sanno eccetera ci rappresentano le mani messe così sempre perché danno una rotazione delle mani un omale dolcissimo e viene rappresentato da Raffaello da tutti lui le ripropone ma ha cambiato tutto il quadro vedete come costruisce con i colori tutti i colori sono figli di Manet e Monet quando noi andiamo a vedere l'arte moderna vediamo un mare di colori all'interno dell'arte moderna nelle gallerie sono figli e guardate questa è meravigliosa la donna che piange era una delle sue donne con cui lui aveva rotto quindi eccolo qui guardate le lacrime gli occhi c'è tutto il cupismo la distruzione del viso di come se lo vedesse da tante angolazioni diverse e quindi già Cézanne aveva fatto questo nei giocatori di carte ripete prima da una parte e poi dall'altra Cézanne è grandioso perché Cézanne era finita l'arte impressionistica una volta che disprimi immagine Cézanne la riprende venti anni ci mette studia e ripropone l'arte impressionistica e i colori in chiave filosofica cioè rifacendosi a un filosofo Kant che dice che noi vediamo tutte le cose attraverso la geometria e infatti lui le vede attraverso la geometria il cilindro il cilindro e nasce quest'arte stupenda anche di Picasso andiamo avanti e eccolo e vediamo ai tempi proprio nostri ecco Man Ray senza titolo quante volte nella pubblicità vengono usate le labbra femminili tantissime volte e se noi guardiamo bene questa senza dubbio le labbra ricordavano due corpi strettamente allacciati l'una all'altra se voi vedete questo è il sedere diciamo poi c'è il corpo delle spalle e sotto le labbra come simbologiche paradigma del corpo umano due corpi abbracciati e sotto eccola qui la donna che ripete con la sua nudità in certo qual modo ecco ripete il disegno delle labbra e le labbra vengono usate tantissimo in pubblicità l'avete visto quando si accostano i bicchieri alle labbra c'è tutta sensualità è tutto un richiamo erotico sessuale continuamente perché le labbra eccolo lì merray rappresenta questo Andy Warhol ci rappresenta Merlin Warhol Merlin Ballore è stata il simbolo della femminilità della femminilità che cosa ne fa lui è un simbolo unico lui ce la ripropone in xilografie in tante altre volte ecco disfacendo l'immagine creandole tante per cui io distruggo quel simbolo e indico anche è che c'è consumismo quel simbolo è diventato consumistico diventa di consumo quindi i pittori nostri gli artisti attuali ci presentano il consumo vi ricordate quello scelte nella scatola no? ecco insomma cacca di artista ecco e oggi vale un sacco vale perché direi così perché perché tutto quello che vendiamo basta firmarlo e lo faccio diventare lo faccio diventare opera d'arte e oggetto di vendita e il consumismo è l'artista risente dei tempi in cui vive ecco e poi abbiamo uno dei più bei quadri Chagall Chagall è il sud di Russia che ha questa visione onirica delle cose il sogno e che cosa rappresenta tutti gli abitanti della città si mettono a camminare al di sopra della terra abbandonando i loro posti abituali perché? perché l'amore trionfa e la passeggiata è fra due innamorati i quali hanno sotto di loro una città che può essere Parigi può essere chiunque in tutto verde un prato immenso intorno e lui e lei sanno li camminano sui tetti come quella Mary Poppins insomma ecco perché la fantasia ci porta e l'amore porta al di là degli spazi abitati dagli altri ci porta in un altro mondo eccolo in là ed è lei rappresentata che va tenuta per mano con quel vestito rosa altrimenti volerebbe ancora più solo e lui la trattiene e quindi rappresenta il mondo dell'amore che vola su tutte le neguizie e le cattivelle umane ecco e questo è l'ultimo vi dicevo con quello che abbiamo iniziato questo splendido dagli elementi discordanti nasce una bellissima armonia non si può entrare due volte nello stesso fiume questo diceva due mila e cinquecento anni fa Eraclito pantare scorre tutto scorre tutto tanto che uno che aveva i debiti andò dal provvedere dice io ti devo dai soldi io non so più quello di E se scorre tutto sono cambiato pure io ma è una visione molto più ampia cioè la vita è un continuo dinamismo fatto dagli opposti amore morte freddo caldo guerra pace tutto questo crea è la vita dice Eraclito gli altri filosofi quindi ma che stai a dire tanto è tutto piatto nulla si crea nulla si distrugge dirà Laura Sie figlio la filosofia è greca ancora oggi quindi allora pantarei lo ripeto è questo ecco tutto scorre ed è bellissimo questa con minonia meravigliosa il puntino bacchino che è simbolo dell'amore ecco lì che beve il vino e scorre tutto attraverso il corpo e viene fuori in un'altra dimensione quella dell'urina in basso e quindi pantarei e scorso tutto attraverso il corpo è stupefacente bene grazie grazie grazie